ciao ragazze eccoci un'altra volta qui nel nuovo video recensione questa volta parliamo di un prodotto che ultimamente sta spopolando in rete e vabbè un po come tutte le novità essence quindi insomma vi dico che parliamo del blush up di essence allora io ho questo quindi la colorazione quella lì la 10 it wave credo che si lega così ed è praticamente questo brush con effetto diciamo di colore a gradazione che parte da questo colore più chiaro quasi aranciato per andare a finire poi a questo colore leggermente più rosato ragazzi devo dire che io con i blush della essence non è che abbia avuto sempre un buonissimo rapporto perché comunque c'è sempre qualcosina che non mi piace di blush di essence con questo qui in realtà io vi dico ho preso solo questa colorazione perché l'altra quella rosa in realtà la trovavo troppo 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 accesa e non era perfettamente adatta a quello che è il mio incarnato c'era difficoltà ad utilizzarla per cui ho preferito non prenderla vi dimentica non ricordo bene il costo mi pare intorno ai 4 euro comunque questa qua e vi dico che è leggermente polverosa vi faccio uno swatch se riusciamo dal non faccio con questo qui si vede meglio forse questa è dalla presa dalla parte più interna fate caso alle mie unghie che devo farle quindi devo assolutamente vorranno un pochino meglio le mani ma non ho avuto tempo quindi questa quella colorazione presa dal centro del prodotto e come vi dicevo è leggermente polverosa per cui insomma bisogna fare molto attenzione ed è anche molto molto scrivente quindi quando l'andate ad applicare soprattutto se avete un incarnato così chiaro come il mio vi consiglio di applicarlo in maniera molto molto stando attenta alle quantità mettetene poca e poco e sfumatelo bene altrimenti vi trovate con queste gote tipo ai di leggermente colorate poi insomma non è proprio carino allora il metodo il pennello che mi piace di più per utilizzare questo prodotto è il small tipo brush questo qui piccolino della elf famosissimo lo vedete che è colorato perché è usato e non ho lavato ancora l'ho usato nei giorni scorsi sempre con questo prodotto per cui è un po' sozzetto però insomma lo devo lavare vi volevo far vedere appunto come viene l'applicazione io lo stengo con questo qui e poi lo sfumo un po' con il cabuchino sempre della elf che anche se non c'è scritto perché ormai si è cancellato però era il cabuchi quello la piccolino della elf l'ho acquistato un po di tempo fa questi pennelli allora ne prendo un pochino dal centro ma veramente pochissimo ragazzi vedete io picchietto solo e poi lo vado a sfumare lo vado a picchiettare sulla mano perché non mi piace avere troppo colore quindi saridete come al solito e fate questo movimento io però ragazzi lo faccio dalla dallo specchio altrimenti combino un macello quindi niente fate vedete leggermente così vedete che si sta leggermente colorando e prendo un altro po da mettere tampono sempre specchietto tampono sempre un po e poi lo spendo sempre sorridendo dall'altra parte del viso allora mi sto mettendo pochissimo farvi vedere che già con poco poco prodotto noterete insomma questa colore sano che hanno le gote che prendono appunto le guance che prendo un altro cosa quest'altra parte io tendo sempre a sfumarlo un pochino verso le tempe quindi non faccio il movimento tondo circolare perché non mi piace quindi cerco di non andare troppo verso l'interno perché altrimenti sembra che io abbia naso e guance tutto un colore perché ho il viso abbastanza lungo quindi cerco di farlo veramente solo dove c'ho la gota un pochino più pienata e lo vado a tirare poi dopo aver fatto questo come vi dicevo utilizzo il mio kabuki perché mi piace l'effetto un pochino più sfumato c'è da dire che a volte utilizzo anche il pennello quello lì che utilizzo per il fondotinta per stendere il fondotinta ragazzi devo dirvi la verità questo blush mi piace mi piace perché dona un effetto naturale non è polveroso ma non particolarmente quindi comunque se lo andate a tamponare con prima di applicarlo con il pennello non avete assolutamente alcun tipo di problema lo sto usando da un po e non mi sta dando cielo ce l'ho praticamente da quando è uscito e non mi sta dando assolutamente alcun tipo di problema non mi nascondo che io utilizzo il blush a volte anche come fard quindi proprio quando veramente c'ho due minuti di tempo per truccarmi quindi voglio fare un trucco diciamo tra più il più completo possibile a volte stesso con questo qui io addirittura mi tampono leggermente la po con il dito me lo sfumo il palmetto flash quindi faccio flash o bretto stesso colore insomma quindi con questo qualche riuscite proprio sto qui il fatto che abbia questi due colori riuscita ad avere se volete un incarnato ancora più aranciato insomma utilizzate so qua più rosa questo qui io la prendo sempre dal centro perché mi piace appunto questo colore che c'è questo qui unito insomma mix dei due colori quindi niente ragazzi è abbastanza versatile perché potete decidere di utilizzare solamente anche se comunque sempre consigliate usare gli ombretti piuttosto che farlo come ombretti però comunque potete riuscire a sfruttarlo anche così cioè magari volete usare questa tonalità solamente per completare un trucco sull'occhio oppure a quest'altra tranquillamente potete farlo io lo trovo però facendo sempre attenzione che comunque un pochino polveroso quindi niente ragazzi io non ho avuto assolutamente reazione a questo prodotto cosa che invece con altri prodotti qualche volta mi è capitato che una pelle molto sensibile e quindi quindi niente mi sono trovata bene diciamo che per il prezzo che ha tranquillamente credo che vada bene e niente ragazzi spero che questa recensione vi sia stata utile e se vi va ragazzi iscrivetevi al canale condividete il video insomma vedete voi niente ragazzi vi mando un bacio ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao